Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, sono sempre Davide, questo è sempre il mio canale e oggi parliamo un'altra volta di qualcosa di un pochino più leggero, eh dai si sta avvicinando l'estate come ho già detto nell'ultima occasione, quindi cerchiamo magari di rallentare un attimo per le cose più prettamente bassistiche e occupiamoci comunque di aspetti che sono a mio modo di vedere altrettanto importanti, la scorsa volta abbiamo parlato un po' delle strutture, dei brani, delle varie forme, di quello che può essere la musica a livello generale, eccetera. Oggi invece mi voglio concentrare su un aspetto che ritengo veramente importante, ovvero come si fa ad andare a suonare dal vivo, è più nella macchina che vado a suonare, ecco bene, ma sì è vero, al fine succede quello, però 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 andiamo a suonare, c'è un bel po' di cose da fare prima, durante e volendo vedere anche dopo, allora cerchiamo di analizzarle per riuscire a uniformarci un po' tutti, ecco magari spero di riuscire a darvi qualche consiglio cercando appunto di migliorare un po' su tutti questi aspetti che andrò ad illustrarvi. Partiamo dall'inizio, partiamo dall'origine, si presuppone che quando si va a suonare, quando si decide di organizzare dei live che possono essere serate nei locali, festival, andiamo a far sentire il nostro disco, quello che volete, ci sia ovviamente una preparazione di fondo, quindi il primo aspetto che voglio curare un po', che voglio che cerchiate di curare un po' è quello del repertorio, perché sembra scontato, però in realtà ci sono diversi repertori che si possono affrontare e di conseguenza anche diversi modi di porsi nei confronti del proprio repertorio. Che cosa voglio dire? Allora, la situazione più classica è quella del brano inedito, ok? Se stiamo affrontando un percorso di inediti con la nostra band probabilmente ci preme la qualità proprio curata al minimo dettaglio e quindi bisognerà provare. Quindi è fondamentale fare le prove, cercare di tirare meglio i pezzi, perché sennò poi quando si va a suonare dal vivo, non va bene, cacchio ragazzi, il pezzo è vostro, dovete essere strassicuri. Quindi ciò necessita un discreto numero di prove, lo dico più che altro per quelli che vogliono fare il mestiere del musicista, le prove non servono, le prove servono sempre e comunque. Poi sul fatto che in un contesto magari più economico, diciamo così, possano essere un po' di intralcio, bisogna cercare di ottimizzarle, eccetera, posso essere d'accordo. Ma le prove vanno fatte, qualunque cosa voi facciate e prima ancora delle prove è necessario, è fondamentale che ci sia da parte di tutti gli elementi della band un discreto numero di ore di studio a casa. Studio che non vuol dire necessariamente studiare il proprio strumento che si presuppone, insomma, se decidete di intraprendere un certo tipo di percorsi ci sia, ma anche proprio studio del repertorio. Cioè, se dovete andare a fare le prove, è ovvio che le prove bisogna arrivare preparati, dai, quello lo dico per tutti perché so che molto spesso le band si sciolgono perché cadono proprio su questo aspetto. E' andato a provare il mio chitarrista, non sai pensare, la terza volta è quello che non lo voglio più vedere. Eh, fai bene, adesso mi spiace per il tuo povero chitarrista, ma la realtà dei fatti è quella. Quindi lo dico per tutte le parti, lo dico per quelli che vorrebbero ma non possono perché non hanno tempo per diversi aspetti e per quelli che invece vogliono dedicarci del tempo e si trovano appunto ad avere a che fare con elementi di questo tipo. Ricordate che in tutte le cose che si fanno, non voglio andare nel filosofico, ma è pura verità, l'unità di intenti è fondamentale. Quindi se tutti insieme decidiamo che saremo i nuovi Le Zeppelin, dovremo metterci l'impegno tutti insieme. Se ne manca uno, cacchio non può mancare John Bonham, eh, cacchio no, non si può fare. Questo è fondamentale. Studio a casa, prove mirate a quello che state facendo. Attenzione, ho citato volontariamente il discorso dei brani inediti perché spesso poi si passa dall'altro capo della barricata, dal lato delle cover band, e si pensa che le prove non siano necessarie. Perché le prove, ma dai, sono sempre i soliti brani, che ne ha proprio i file con The Water? Chiariamo un po' di punti. Allora, innanzitutto qua ci colleghiamo poi a quello che sarà il secondo punto, che sarà quello intorno al quale ruota tutta questa mia discussione di oggi, ovvero lo scopo. Perché stiamo suonando? Perché stiamo imparando un repertorio? Perché stiamo imparando dei brani? Qual è il nostro scopo? Fare il maggior numero di date possibili? Come le vogliamo fare? Con le cover? Perché così ci pagano? Ecco, magari vi pagano anche poi con i brani inediti, magari non vi pagano neanche con le cover, che è la cosa peggiore che possa capitare. Però sappiate che qualunque sia il vostro scopo dovete mettervi l'impegno per farlo bene. Quindi se volete fare una cover band di quelle che funzionano da 10-15 anni a questa parte, tutto organizzato per medley, spettacolo, show, eccetera, quelle cose, ragazzi, vanno provate, non si improvvisano, anche se nel repertorio, nella scaletta, avrete magari pezzi che avrete suonato 2001 volte. Perché? Perché prima di tutto c'è uno spettacolo da tirare in piedi con determinati tempi, quindi alcuni brani che devono essere suonati, ad esempio, a velocità diverse da quelli degli originali, per poterli mettere in un medley dove i bpm sono sempre costanti, tanti altri aspetti, insomma, che non sto a rincarvi, se no non finiamo più. Comunque resta il fatto che le prove vanno fatte per avere anche una cover band di estrema qualità, anche per avere una tribute band di estrema qualità, perché se tributate un determinato artista, adesso al di là della somiglianza fisica o meno, del look, eccetera, comunque bisogna suonare in quel modo lì e bisogna far uscire i pezzi bene, perché se uno vi viene a sentire perché suonate i brani del suo idolo, della sua band preferita, anche dovete farglieli bene, non potete dire ma sì questa la guardo quando sono al locale. L'attenzione è che molti, molti cadono su questo punto di vista e vi dico la verità, anch'io ho fatto questo errore in passato ed è per quello che vi suggerisco di evitarlo, ok? Certo c'è poi anche la situazione, quelle rarissime situazioni, in cui si può andare a suonare quasi in modo da jam session, ovvero sì dai ascoltiamo due robe e poi andiamo lì e suoniamo e vediamo un po' come va. Quali sono queste occasioni? Quelle in cui la band è tirata su rapidamente per una sola soluzione, poi è un investimento, vogliamo perderci del tempo, non vogliamo farlo, vogliamo fare una tanto, un basta che mi pagano e va bene così come va va. Se andiamo a suonare i matrimoni e le feste private, parliamoci chiaro, non vi ascolta nessuno, ma nessuno, zero, è finita, cioè dimenticatevi, erano gente lì perché ci sono degli amici e dei parenti che si sposano, siete proprio l'ultimo roto del carro, non c'è nessuno che non si becca dei complimenti al matrimonio, cioè se uno non si becca dei complimenti è perché ha insultato la mamma dello sposo, cioè non per altro. E quindi magari, magari, ecco, lì le band un po' arrabattate se la possono ancora cavare. Attenzione, lo dico e lo nego perché comunque il prodotto di qualità è sempre meglio, ok? Quindi cercate anche in questo caso, quantomeno, di avere un canovaccio, di provare un minimo, il minimo indispensabile. Quindi abbiamo detto studio a casa, prove fondamentali, il discorso delle cover degli inediti, quindi cercare un po' di capire esattamente qual è il vostro percorso, ma soprattutto abbiamo detto avere ben chiaro qual è lo scopo, preparare tutto quello che riguarda l'ambito del repertorio in base a uno scopo. E lo scopo può essere dettato da quello che è, secondo me, il punto fondamentale di quando si va a suonare, cioè dove stiamo andando a suonare, il luogo. I luoghi in Italia purtroppo sono pochissimi, lo sappiamo tutti, lo sapete, ci siamo passati, sono già state spese tantissime parole a riguardo, aprirò come vi ha già, vi ho già promesso tempo fa, una rubrica qua sul mio canale in cui parlerò solo di musica live, proprio per cercare di creare una community e tutti insieme, vedere se c'è qualche soluzione alternativa alla soluzione disastrosa che abbiamo in questo momento. Comunque, insomma, tornando all'origine, il luogo dove stiamo andando a suonare. Allora, a seconda dei livelli, dell'età, dell'esperienza, eccetera, possono ovviamente ampliarsi le tipologie di luogo. Possiamo andare a suonare ovviamente nel locale, come dicevo prima, ma non c'è solo il locale. Se fate brani inediti, magari rinunciando a qualche soldo, diciamo così, in modo molto venale, potreste scegliere di andare a festival importanti perché vi danno un'enorme visibilità. Attenzione, con la visibilità non si pagano le bollette, però nel momento in cui fate inediti può essere comunque un aspetto importante se fatto in un certo modo. Quindi potete suonare alla festa delle scuole dei vostri figli, nipoti, potete suonare alla festa della scuola vostra, se siete giovani, licei, i tisse, dove vi capita, insomma. Ci sono poi feste private, dicevo prima, matrimoni, ma anche convention, aziendali. Ci possono essere davvero alcune situazioni diverse. Quindi a seconda di dove devo andare a suonare, ovviamente necessito di una preparazione diversa. Perché? Perché il locale magari mi chiede una scarretta da un'ora e un quarto, un'ora e venti, un'ora e mezza. Magari mi chiede di suonare, anche se io ho tutt'altro repertorio, determinati brani. Perché? La politica di quel locale è quella di far sentire quel tipo di musica. Ora, possiamo decidere, possiamo di accettare o di non accettare, ma nel momento in cui decidiamo di accettare perché vogliamo suonare, bisogna stare su dette regole e quindi dovremmo magari agire di conseguenza. L'atteggiamento è molto importante quando vado a suonare dal vivo. Sto andando a suonare in un locale, mi vesto come cavolo mi pare, e mi comporto nei limiti del rispetto delle persone, come cavolo mi pare. Vado a suonare per un'azienda leader mondiale, magari dovrò atteggiarmi in un altro modo. Attenzione che anche queste sono le cose che poi fanno la professionalità dalla non professionalità. Certo, la professionalità ci deve essere ovunque, anche nel localino spuzzo che vi paga in birre. Ma magari c'è un pochino più di elasticità, si può essere un po' diversi come atteggiamento generale, pur senza, ripeto, mancare di rispetto. Capite che anche il dove andiamo a suonare può incidere anche parecchio su quello che andremo a fare, quindi anche sulla preparazione del repertorio, di conseguenza sul numero di prove, vedete che tutto si ricollega alla fine. Quindi sta a voi decidere come, dove e quando andrete a suonare e in base a quello cercare di ottimizzare il vostro atteggiamento. Proprio un secondo fa mi sono espresso anche parlando dell'abbigliamento. Ecco, l'abbigliamento è secondo me il terzo aspetto fondamentale. È fondamentale, attenzione non è un accessorio, è fondamentale. Siamo nell'era dell'immagine, quindi l'immagine fa veramente tanto. Da come vi presentate al locale, quando andate a cercare di vendere la vostra benda, come vi presentate, come vi comportate quando andate a suonare in un determinato ambiente, che sia il locale, ripeto, la birreria di paese, che sia l'azienda leader mondiale. Dovete sempre cercare di rispettare un determinato dress code, un po' quello con cui arrivate, proprio sul luogo in cui dovrete esibirvi, ma soprattutto, ovviamente, quello che è il vostro stile, il vostro look, il vostro abbigliamento, il vostro modo di atteggiarvi sul palco. Ho già avuto modo, se non sbaglio, di dirlo in un altro video, ma se voi vi vestite tipo flea in mutande o totalmente senza mutande sul palco, poi non potete stare imparati. Non ha senso, ok? Quindi, se siete la rock band, l'hard rock band, e quindi decidete di vestirvi rock in tutto e per tutto, dal capello al jean stracciato, a tutto quello che volete, allora poi sul palco dovrete essere rock, altrimenti non siete credibili. Se non siete credibili, se fate pezzi vostri soprattutto, andrete a perdere dei punti. A tutte le difficoltà che già ci sono, aggiungerete voi una difficoltà al fatto di non essere credibili. Punto, finisce lì. Dopodiché l'abbigliamento si può decidere, potete appunto essere rock, potete essere eleganti, che funziona sempre. L'eleganza chiede magari un certo tipo di musica, un certo tipo di sound, ma non è detto, eh, attenzione che c'erano band punk che si vestivano in giacca e cravatta. Dipende, dipende tutto. L'importante è che ogni scelta venga fatta con estrema cura, con un ragionamento alle spalle. Decidete di vestirvi tutti uguali, benissimo. Dovete essere tutti uguali, non facciamo anche una maglietta quella nera, arriva quello nero scuro, quello grigio, quello blu scuro. Deve essere nera, ok? Sennò fate schifo, sembrate arlecchino, non va bene, ok? Quindi vedete che sono già tre aspetti che magari uno snobba, ma vi assicuro che possono fare la differenza. La differenza, ripeto, non lo si fa solo suonando bene, quello deve essere la base. Ma poi, per funzionare come band, come artisti, come bassisti, come musicisti, a qualsiasi livello, direttanti, hobbysti, brani vostri, cover band, semi professionisti, dovete fare la differenza con altre cose. Io sto cercando di farvi capire, ecco, andiamo a suonare, oggi era questo il titolo del video, intende tutte queste cose. Quando si va a suonare, si parte, ripeto, dalla preparazione, si cura tutto l'aspetto, si dà molto peso al posto in cui vado a suonare, si cura, come abbiamo appena detto, l'abbigliamento. E, non per ultimo, ovviamente, curiamo anche questi. Non solo saperli suonare, ma saper decidere cosa ci serve, di volta in volta, live, quindi la famosa borsa dei cavi. Quanti massi devo portare? Ma l'altra volta, se vi ricordate, non molto tempo fa, ho fatto un video in cui parlavo di quanti bassi bisognerebbe avere. Ecco, a prescindere da quello, e poi, anche se ne ho 100, non li porto tutti i 100 per fare una serata, quanti ne devo portare? Quello lo decidete voi, però, ovviamente, tutto si ricollega ai punti precedenti. Dove sto suonando? Su un palco di due metri per uno, dove ci sta la batteria, io probabilmente devo suonare in braccio alla cameriera, che magari può avere anche i suoi vantaggi, ma non è quello lo scopo. Magari due bassi lì non ci stanno. Non ci stanno, quindi me ne porto uno solo e probabilmente lo devo anche mettere via durante le pause. Capite che bisogna valutare anche in base a quello. Idem ovviamente per l'amplificatore. Se è un amplificatore da 8 coni, magari nel locale piccolo non ci sta. Poi, attenzione, l'amplificatore da 8 coni, invece siete su un grosso palco, volete portarvelo, fatelo. Attenzione, perché poi dopo subentrano un po' di altri discorsi. Allora, serve veramente, anche sui palchi grossi, al giorno d'oggi, che magari con ampi più piccoli si ottiene lo stesso risultato? Se siete su un palco grosso, l'avevo già detto appunto in quell'occasione, presumibilmente avrete un discreto service con un discreto numero di spie, quindi magari una tutta dedicata a voi lì davanti, bella, tronco di cono che vi guarda e sentirete tutto da lì. Quindi il vostro ampio 8 coni è lì che, boh, sta andando, sta andando. Non lo sapete perché siete talmente coperti dal volume di quella spia lì che magari non lo sapete se sta andando. Quindi capite che dobbiamo valutare un po' tutto. Ecco, l'importante è appunto decidere, a priori, cosa volete fare. Se invece vado a fare la presentazione del mio disco per il quale mi son fatto un mazzo quadro, abbiamo registrato, fatto il mastering, viaggiato, speso soldi, eccetera, vado a fare due, tre concerti all'anno in cui devo presentare quello e cacchio me ne porto quattro di bassi. Tutti gli stessi con cui ho registrato li voglio avere sul palco e devo rendere, ovviamente, nello stesso modo. Però ciò presume che dietro poi la catena ci sia tutto il resto. Quindi se io porto la strumentazione di un certo modo ci deve essere un fonico di un certo tipo, un impianto di un certo tipo, se no tutto lavoro sprecato, ovviamente. Però certe situazioni vanno curate tutti insieme, con un preciso scopo, quello di far uscire un bel prodotto finale e di conseguenza lavorare tutti nella stessa direzione. E questo è un altro discorso. Tornando al mero portarsi dietro le cose, come abbiamo parlato di basso e di ampli, di cui, ripeto, ho già parlato anche in altre occasioni, non snobbiamo un aspetto veramente importante che è quello dei cavi. Attenzione, primo è poco professionale dimenticarsi le cose, non avere mai il cavo, arrivare col jack sgangherato che non funziona, la pipetta, c'è il cavo a pipetta, ma non era pipetta, prima si è piegato, ma magari funziona lo stesso. No, non funziona, buttalo, buttalo via, prenditi un cavo bello, spendi quei 50 euro di cavi, lì prendi, ti fai un bello zaino, una bella borsetta e quella è la tua borsa del live, la borsa in cui metti dentro tutto quello che ti porterai sempre solo in giro. A casa tua, usa delle altre cose, anche perché poi è brutto, dai nei locali sporchi, la birra sopra, eccetera, li puoi mettere nella valigetta e basta, pulisci, li rimetti lì, non te li porti in casa e poi tutte le volte devo staccare, riattaccare, aspetta, metto qua, cercate di avere strumentazione dedicata, tanto ormai nei locali si va sempre con meno cose, ecco, una bella valigetta di cavi investita con le 50-60 euro di cavi che funzionano sempre, ogni tot fate un check, ne cambiate uno, lo rimettete, eccetera, eccetera, e te la tenete lì, suonate una volta al mese, una volta all'anno, 10 volte alla settimana, mattino e sera, tenetevela lì, è quella, serve per quello, secondo me è la cosa migliore, ecco, questo è un consiglio spassionato, insieme ai cavi, ovviamente, poi ci sono tutti gli accessori, lasciamo perdere il discorso dei pedalini, effetti vari che rientrano nella strumentazione, come accessori, io intendo per esempio il fatto se lo usate, di portarvi sempre più plettri, e metteteli ovunque, metteteli nelle tasche, metteteli nel portafoglio, nella custodia del basso, così se, eh cacchia, non lo trovo, e ce l'avete lì, ok, e sul palco sempre in un posto sicuro, soprattutto se magari il plettro non lo usate dal primo all'ultimo pezzo, ecco, teneteli in un posto sicuro, che l'ombicada, non ci finisca sopra la birra, non fate casini, lo perdete, deve essere il vostro strumento di lavoro, quindi deve essere sempre pronto all'uso, in qualunque situazione, in qualunque momento, è fondamentale, come è altrettanto fondamentale, io vedo, soprattutto se non potete permettervi di portare due o più strumenti, le corde, le corde sono fondamentali, ma non si è mai rotta una corda del basso, se mi ha visto qualcuno rompe la corda del basso, io, due, nello stesso live, due, non una, due, nello stesso live, fortunatamente abitavo a 200 metri da quel locale, e per due volte, ho fatto partire la band in acustico, per andare a prendermene, non ce l'avevo dietro ovviamente, ecco, quindi, sappiate che è fondamentale, perché la volta che capita, siete veramente fottuti, quindi, il mio consiglio è quello, quando cambiate le corde, perché decidete che sono vecchie, quelle vecchie, non buttatele, le mettete nella, nelle carte, nella carta di quelle nuove, le mettete nella custodia, e ce l'avete sempre dietro, così, quando volete, potete fare i vostri cambi corde, quando vi serve, siete sempre pronti, e sempre in un posto sicuro, vicino al palco, e che sapete che sono lì, è un proprio, una sorta di, di portafortuna, ecco la corda, che se non c'è regolarmente, ecco, e non finisco la frase per scaramanzia, benissimo, c'è un ultimo accessorio, che io ritengo fondamentale, avere in tutti i live, come anche a casa, ma anche nei live, e ve lo faccio vedere, ve lo mostro, è questo qua, guardate, eh, avete riconosciuto? No, se lo usate, spero di sì, magari le vostre morose, un tagliaunghie, un tagliaunghie, questo qua salva la vita, salva la vita più del Beghelli, perché, perché, quando poi iniziate a fare soundcheck, e vi rendete conto, scusate, pom, e vi rendete conto, che stink, 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 e fa schifo, fa schifo, lo so, che è una cosa bruttissima, ci siete passati tutti, lo so, ditemelo, commentate, fatemi sapere, se non è così, cercate di averlo sempre dietro, nella borsa dei cavi, proprio nel posto più importante, della serata, tirate fuori, alla corrente, scusate, pram, 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 più, via, e andate avanti a suonare, con il suono che avete, perché, quella cosa lì, può veramente rovinare un suono, va bene, dai, scherzi a parte, comunque no, non lo scherzo, è importantissimo, anche il tagliaunghie, come tutto quello che vi han detto, quindi, spero di esservi stato d'aiuto, come sempre, se così fosse, o non fosse, fatemelo sapere nei commenti, e condividere, diciamo così, un po' con tutti, se andate a suonare spesso, dove andate, nella vostra regione, nella vostra città, nella vostra zona, ci sono più occasioni per suonare live, nei locali, nei club enormi, nelle feste, si dà molto peso alla musica inedita, non se ne dà per niente, se ci confrontiamo, visto che qui bene o male, c'è gente che arriva da tutta Italia, possiamo magari confrontarci appunto, e cercare di scambiarci delle opinioni, dei consigli, cosa che poi, ripeto, approfondirò in una rubrica dedicata, tra non molto. Per oggi è tutto, un'altra volta vi ricordo, come sempre, che se non l'avete ancora fatto, vi potete iscrivere al canale, magari cliccando anche sulla campanellina, per rimanere sempre aggiornati, mi trovate su tutti i social, in particolare, oltre a YouTube, anche Instagram, Facebook e Twitter, e poi, come dico sempre, mi trovate sempre solo a casa mia, in quel di... non ve lo dico. Ci sentiamo alla prossima, è tutto anche per oggi, ciao ciao!